Cari Cassolesi, purtroppo vi devo informare che nella tarda serata di ieri sono stato a mia volta informato di sei nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra comunità. Sfortunatamente due di questi sono ospiti della Casa di Riposo Lavatelli. Sono in costante contatto, già dai giorni scorsi, con la direzione e le autorità sanitarie per monitorare la situazione. La struttura è stata compartimentata per dividere i casi di positività degli altri ospiti. Il personale dispone di tutti i dpi necessari e per rispondere alle richieste ricevute, nei prossimi giorni verranno incrementate le attività di videochiamata per mettere in contatto le famiglie con gli aziani ricoverati. Come sindaco ho chiesto ad ATS che vengono effettuati i tamponi su tutti gli ospiti e il personale. Rinnovo il fiducia al personale che opera presso l'RSA con Giulia Vatelli, che negli anni si è sempre occupato con professionalità dei nostri anziani. In questo momento, anche a loro che sono in prima linea a proteggere questa emergenza, deve andare tutta la nostra vicinanza. Anche in questa circostanza rinnovo il mio invito a tutti a rimanere a casa e a rivolgersi alla nostra infoline per eventuali esigenze. Buona serata.